L'attenzione di tanti telespettatori del GFVP è rivolta verso Jessica Selassie e Baru, la coppia che fa fatica a formarsi nonostante lei sia abbastanza presa, mentre lui ha più volte detto di non volersi esporre all'interno della casa Jessica Selassie continua il suo corteggiamento nei confronti di Baru anche se il nobile ha ribadito di non essere intenzionato ad impegnarsi con la principessa Durante le lunghe giornate a Cinecittà non mancano le occasioni per stare vicino e Jessica Selassie cerca sempre di far capitolare Baru Un esempio è quello che è successo durante la pericena organizzato dai Viponi Jessica Selassie e Sofie Codegoni sono andate al market per recuperare tutto il necessario e hanno iniziato a brindare, a noi, ha detto l'ex uomini e donne Baru ha iniziato a preparare le piadine e Jessica Selassie e Mirjana Trevisana hanno iniziato a ballare seguite dal resto dei coinquilini Poco dopo Jessica si è esibita per il resto del gruppo con un twerking molto sensuale, mostrando il suo lato B.A. Baru Quindi è intervenuta Degli Adoran che ha chiamato in causa il nipote di Costantino della Gerardesca, Baru, pensaci tu, ma il nobile Noon pare molto attratto dall'esibizione di Jessica e rivolge il suo sguardo altrove E sui social si sono scatenati i commenti. Molti utenti hanno notato l'atteggiamento di Baru e hanno criticato il comportamento di Jessica Selassie È tutto inutile Noon ti vuole, recita così la maggior parte dei commenti Su Twitter altri fan del GF VIP si sono accorti che poco dopo Baru si è alzato dalla sedia per ballare con Soleil Sorge Insomma nonostante i numerosi tentativi, Jessica Selassie non riesce a convincere Baru che continua a resistere perché Noon vuole una storia all'interno della casa La principessa avrebbe anche voglia di baciarlo tanto che gli ha detto, sento un'energia così forte da te. È l'amore Eppure proprio il nipote di Costantino della Gerardesca ha rivelato a Soleil Sorge di non essere interessato ad iniziare alcuna relazione nella casa del GF VIP Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c'è quella cosa, non c'è niente con lei, altrimenti è ovvio che l'avrei già baciata Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Si fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute, ha detto Baru su Jessica Grazie a tutti